...impegnativo e faticoso. Allora noi cominciamo subito a far... Ma il Papa deve... Tu sai qual era il titolo che usavano i Papi e che si deve usare? Servo dei Servi di Dio. È un po' differente della Start. Ma quando un sacerdote fa un abuso è gravissimo perché la vocazione del sacerdote è far crescere quel bambino, quella ragazza verso su, verso l'amore di Dio, verso la maturità affettiva, verso il bene. E invece di fare questo l'ha scasciata, lo ha scasciato al male. E per questo è quasi un sacrilegio. E lui ha tradito la vocazione, la chiamata del Signore. Per questo la Chiesa in questo momento è forte in questo momento. E anche non si deve coprire, anche sono colpevoli quelli che hanno coperto queste cose. In Colombia, tra le Farc e il governo. Adesso c'è un... ...no trovarla. I muri mai sono soluzioni. Invece i ponti sì, sempre, sempre. Non so, quello che penso sui muri, le barriere. Durano poco tempo, molto tempo, ma non è una soluzione. Il problema rimane, anche rimane con più odio. Quello che penso. Le donne sacerdote, quello non può farlo. Il Papa San Giovanni Paolo II, dopo lunga, lunga, in tempi di discussione, lunga riflessione, ha detto chiaramente, non perché le donne non hanno la capacità, ma guarda, nella Chiesa sono più importanti le donne che gli uomini. Perché la Chiesa è donna. Il calore della gente, tanto amabile, è una cosa bella, è anche differente. In Washington, un'accoglienza calorosa, ma un po' più formale. A New York, un po' stralimitata. Beh, a Philadelphia è molto espressiva. Perfettamente. Ma vogliamo sapere, giustamente... Grazie mille. Grazie mille.